e post basso è pronto Ulaneo a dare un aiuto sul movimento di Wiltshire ecco l'appoggio a Canestro sbagliato, Cabenghele buon rimbalzo offensivo Canestro e fallo anche in Fiondu Cabenghele e la potenza rimbalzo sul blocco Moretti c'è l'errore, la possibilità per Heidegger buonissimo movimento del pallone per Venezia ancora una volta il Canestro più fallo nell'area dei tre secondi è anche uno dei motivi per cui Cabenghele è stato preso conclusione un po' affrettata, dettata dai tempi di Nicolao l'alliope per Cabenghele, Brodezza impostare sul più sedici per Venezia Sims post basso due giri con Gabe Brown e Sims appoggia Canestro il mismatch ultimo caso, ultimo caso che è stato poi in realtà il primo che abbiamo visto nella partita quello di Amir Sims piede perno gestito perfettamente giro e nonostante palla persa adesso recuperata proprio da Tessitori contropiede 4 contro 1 per Venezia concluso per Venezia e vediamo se cercherà di sfruttare al massimo bene anche tanto, ancora un aiuto di Magnion questa volta però falloso delle cosiddette tacche e l'aiuto di Magnion è tardivo e falloso è però anche una delle poche soluzioni che da Tessitori prima gestione con la difesa aggressiva di Brown su Tucker a 5 secondi deve tirare Venezia lo fa l'errore di Tucker che poi appoggia in aiuto di Brown pallone recuperato ma perso da Varese possibilità di correre 2 contro 1 Tessitori l'ha affondata a due mani però il pallone è stato poi toccato Tucker Loeb per Tessitori difficoltà a mettere giù il pallone ma cambio difensivo adesso c'è McDermott su Sims si gira Sims brillante ancora una volta esecuzione la metà del terzo quarto vantaggio ancora consistente per Venezia che ha saputo rispondere grande palla e la schiacciata di Parks grande blocco di Camenghele attenzione ancora una volta al giocatore canadese questa volta fermato ma perde palla subito Venezia Heidegger tripla piedi per terra assegno Max Heidegger lasciato sul posto Casarini intanto Camenghele sulla palla vagante arrivata non sappiamo come dopo nell'azione di gioco De Nicolao Camenghele tripla piedi per terra rimbalzo per De Nicolao Camenghele riceve ancora una volta e va a schiacciare Camenghele Camenghele Camenghele